Cittadini, partiremo per il fronte a combattere lo straniero! A morte i nemici della rivoluzione! Una guerra che siamo costretti a fare contro i nostri alleati naturali, i miei genitori stessi che siamo obbligati a chiamare nemici anche se si battono per salvare la nostra vita. Il nostro caro cugino d'Austria invece cosa rischia? Non di certo la sua testa! A morte i nemici della rivoluzione! A morte i nemici della rivoluzione!